Una figura poliedrica che unisce la sua attività di farmacista in Versilia ha un grande interesse per l'arte e la pittura. Una passione che ha portato Alessio Tongiani a esporre per la prima volta le sue opere con la mostra personale Innumerevoli Fattori, curata da Antonella Carignani. Tongiani ha iniziato la sua carriera artistica dedicandosi alla pittura figurativa, mentre recentemente si è ispirato all'action painting corrente americana il cui massimo esponente è stato Jackson Pollock che enfatizza l'immediatezza e la forza del gesto pittorico ben visibile nei tratti e nelle pennellate a volte nervose altre fluide gocciolanti. Innumerevoli fattori rappresenta un viaggio attraverso la sua sperimentazione e la continua evoluzione del suo linguaggio visivo. I dipinti di Tongiani non mostrano una realtà oggettiva o soggettiva, ha commentato la curatrice, ma semplicemente liberano un'attenzione, esprimono il malessere dell'artista in una società di benessere dove tutto è progettato, ma sono anche messaggi di poesia. La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 10 novembre con ingresso gratuito.